Ciao a tutti! Oggi prepareremo il ragù di melanzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono cipolla, sedano, carote, basilico, olio, melanzane tagliate a cubetti, polpa di pomodoro, acqua, sale e pepe. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccare il basilico, le carote il sedano e la cipolla. E li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5. Andiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 5 minuti 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo le melanzane, la polpa di pomodoro, il pepe, il sale e l'acqua ed azioniamo il bimbi per 20 minuti. Temperatura varoma, anti-orario, velocità soft. Il ragù è pronto, trasferiamolo in un contenitore. ragù di melanzane, ideale per condire pasta o farcire crostini. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!